Benvenuti in questo video dimostrativo nel quale andremo a trattare uno degli argomenti del corso di Certified Professional Forensic Analyst. Le raccolte di tracce per identificare evidenze digitali è uno dei capisaldi dell'analisi forense. In tal senso l'analisi di immagini disco è fondamentale per raggiungere tale scopo, cioè quello di raccogliere evidenze digitali. I file che vengono cancellati non vengono effettivamente rimossi dall'hard disk. Gli hard disk, anche se formattati, non cancellano effettivamente il loro vecchio contenuto. I file cancellati, finché lo spazio che occupavano non viene rimpiazzato dalla scrittura di nuove informazioni, possono essere recuperati. Quindi si può recuperare l'informazione che era precedentemente archiviata in quello spazio. Ci sono alcune tecniche specifiche per andare a coprire le informazioni che erano precedenti memorizzate, come la All Zero Pass, cioè sovrascrivere gli spazi andando a riempire con una sequenza di bit a zero. In questo modo, anche se è una delle più semplici, è una tecnica che permette di coprire queste informazioni. Ma se non è stata fatta nessuna attività in tal senso, le informazioni che erano precedentemente archiviate possono essere recuperate. Questa è la tecnica del Data Carving. Come dicevo, in questa dimostrazione vedremo velocemente, con uno dei tool messi a disposizione, come andare a recuperare dei file cancellati. Attenzione, non contenuti nel cestino, cancellati definitivamente da una piattaforma Microsoft. e con questo tool andremo a recuperare questi file, partendo da un file d'immagine di un disco. Il primo passo che viene compiuto per poter identificare una tipologia di file è quello di guardare l'estensione dello stesso, DOCX, PDF, JPEG, eccetera. Ma in realtà, questa è un'informazione che viene usata per associare il file all'applicazione. L'informazione invece che identifica il tipo di file è la firma del file stesso, detta anche Magic Number, che è una sequenza di byte all'inizio del file che identifica la tipologia dello stesso. La tecnica del Data Carving usa appunto il Magic Number per poter identificare l'intestazione dei file presenti sul disco, o meglio, dei file che erano presenti su quel disco. Il Data Carving quindi è il processo di estrazione di un insieme di dati in un insieme molto più ampio, quindi riuscire a identificare una porzione dei dati su un disco è compito appunto del Data Carving. I file estratti dallo spazio non allocato vengono appunto catalogati in base alla header e al footer del file stesso. La struttura del file system durante l'attività di Data Carving è ignorata, quindi non va ad efficiare sulle operazioni la tipologia di file system su cui erano archiviati i dati. I tool di Data Carving, nello specifico Photorec che andremo ad utilizzare in questa dimostrazione, spesso non riescono ad identificare i metadati e quindi non riescono a recuperare determinate informazioni, come per esempio il nome dei file, non recuperano il percorso in cui quel file era salvato, a volte recuperano i dati in modo incompleto perché magari non erano presenti tutti i dati sul disco, però hanno la loro efficacia, nel senso che sempre danno un risultato. Quindi adesso vedremo un esempio appunto con Photorec. Come abbiamo accennato andremo a fare una prova di recupero utilizzando appunto Photorec, che è un utility open source e ha due possibili soluzioni da linea di comando o anche con un'interfaccia grafica. La cartella di riferimento è codesta e abbiamo appunto la possibilità di poter lanciare Photorec Win da linea di comando oppure Q-Photorec per l'interfaccia grafica. Facciamo una prova di questo tool, ci chiedo ovviamente l'autorizzazione, andiamo a dire ok, e eccolo qua. Allora, la prima cosa che fa è quella di andare a identificare ovviamente i device driver presenti sulla postazione e quindi riconosce più di un disco. Poi sotto indica il tipo di file system, la tipologia di recupero se deve essere completo, quindi andare a vedere anche l'intera partizione, oppure libero ricerca soltanto i documenti unicamente nello spazio non allocato. Sotto si può scegliere la folder destinazione, nel frattempo proviamo a crearci una cartella dove andremo a scaricare il risultato della nostra ricerca e creiamo una cartella appunto file carving, la chiamiamo output eccola qua in realtà viene sempre creata un'ulteriore cartella da parte del prodotto che si chiama recupero anzi, ne vengono create più di uno e dipende poi dalla quantità di dati che vengono recuperati. Quindi questa sarà la nostra cartella di output e il formato file, si può specificare ovviamente la tipologia di file che devono essere identificati nella fase di recupero diciamo tutti quanti vanno più che bene non ci rimane soltanto specificare appunto dove vogliamo attuare il recupero nello specifico noi andremo ad utilizzare un file d'immagine di un disco e quindi aggiungeremo un file d'immagine in questa file d'immagine ne abbiamo ben due a disposizione proviamo la presente 11 curve fat.dd che è stata fatta precedentemente da un disco e andiamo a apri, quindi viene identificata il file abbiamo specificato appunto la tipologia del file system completo, destinazione, non ci rimane che dire cerca impiegherà pochissimo nella ricerca infatti eccolo qua, la dimensione dell'immagine era abbastanza piccola e dice che ha recuperato tre file doc, tre jpeg, due pdf, due sf, un riff, jiv, mob, zip non ci rimane intanto che uscire dall'applicazione e andare a verificare appunto nella cartella di output che ci eravamo precedentemente creati eccola qua appunto dicevo viene creata un'ulteriore cartella recupero dir, uno, due, tre, dipende poi dalla quantità di file che vengono legati e qui dentro dovremo trovare appunto l'elenco dei file che sono stati appena recuperati dicevo appunto che c'erano tre jpeg, un gif, tre doc e via dicendo quindi in questo momento sono stati recuperati come dicevo anche scusatemi come dicevo anche nella parte iniziale di questa dimostrazione spesso questi tool non riescono a recuperare i nomi dei file quindi probabilmente troveremo file 00 e via via dicendo tutta quanto una serie di numeri che sta a indicare appunto l'inocità di questo dato mentre per alcuni potrebbe darsi per esempio in questo pdf riuscite a tirar fuori qualcosina in più va bene dai questo è quanto per quanto riguarda questa pillola dimostrativa degli argomenti del corso che andrete ad affrontare vi saluto e ci vediamo al corso grazie, buona giornata grazie a tutti